Grazie per la vostra partecipazione in questo splendido luogo che come ho detto privatamente al sindaco è un merito dell'amministrazione che non rovinare ce l'è stato dato anche se ci sono bellezze naturali, architetturie, artistiche che la mantenere in tons è già un grande rinforzamento Questo incontro è stato organizzato dall'associazione Gemino con la partiva collaborazione dell'associazione Lanciano Europa L'associazione Gemino è nata da un paio d'anni e si occupa essenzialmente di formazione e formazione politica è nata in Friuli Venezia e Giulia sempre mi insegno in Stato di Teramo, ma anche in Stato di Chieste e dal Friuli Venezia e Giulia è emigrata anche in Abruzzo dove ha trovato persone di buona volontà per investire sui servo da l'Università di Seca che ringrazio gli allievi di questa seconda edizione della Scuola di Informazione Politica l'anno scorso abbiamo iniziato a Teramo, quest'anno Lanciano la terza edizione del territorio di Stato di Stato di Chieste Veniamo al tema dell'incontro di oggi la crisi politica e antipolitica diciamo subito che c'è un'interpretazione a livello un po' del pensiero occidentale per cui il concetto di crisi viene visto come qualcosa di essenzialmente negativo in altre culture non è così la crisi significa semplicemente cambiamento il cambiamento di per sé non è una cosa completamente assolutamente negativa il cambiamento significa anche nuova opportunità e vorrei che poi i nostri industriossi di movimento sviluppino anche qualcosa riguardo a questo tema il secondo tema dell'incontro di stasera è politica e antipolitica questo tema è veramente molto spettabile anche perché spesso c'è una certa politica che chiama antipolitica quello che appunto è nuovo che costruisce il rinnovamento o la critica a modi di gestione francamente ormai sostenibili a tutti gli anni allora vorrei se gli ospiti sono d'accordo far parlare l'onema da Marami per ultimo siamo tutti d'accordo aspettando il presente della provincia chiedo al dottor D'Alessandro D'Alfonso che vorrei iniziare io chiederei se è possibile che il relatore parli in un'occhiata di zona di più se possibile dopo vorrei aprire i dibattiti cioè dopo non probabilmente ci possono essere altri interventi alla luce medica buon lavoro e grazie a voi tutti grazie 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 intanzitutto il professore a a Francesco che anima questa associazione e che aiuta anche noi a farci carico di ciò che la politica appunto non si fa carico è della riflessione del pensiero per cui poter elaborare l'azione io vorrei iniziare il mio ragionamento ci ho pensato mentre questi giorni parlandone con Francesco e ritenendo che forse ha colto l'associazione ha colto il tema che attraversa non solo la cosiddetta classe dirigente della politica organizzata ma attraversa tutta la società coinvolge tutti e non è un problema solo della politica è un problema dell'impresa è un problema del mondo delle rappresentanze penso ai sindacati penso alle associazioni categoriali è un problema che attraversa tutta la nostra società italiana non è un problema dei partiti il tema della politica e dell'antipolitica va ben oltre ed è oggetto per esempio di approfondimento culturale come quello che fa oggi questa associazione è un problema degli amministratori locali c'è il sindaco di Fossa Cese che saluto perché si scontrano si confrontano ogni giorno con i problemi problemi di natura amministrativa ma che hanno poi un reverbero assolutamente nella percezione della qualità della vita collettiva e da qui nasce un sentimento quando ho pensato al titolo del convegno politica e antipolitica mi sono posto un tema mi sono posto una domanda e cerco di darmi aiutare domenico questa domanda non ha risposto di certo il contrario di politica e antipolitica ma qual è il sinonimo di politica perché se noi svelassimo fino in fondo questa domanda rispondessimo fino in fondo a questa domanda riusciremmo a capire anche esattamente quanto è profondo il contrario della parola politica e quindi diamo per certo che il contrario di politica e antipolitica vorrei cercare di invece capire qual è il sinonimo quasi come se aprissimo un vocabolario dei sinonimi contrari andassimo a cercare la parola politica e individuare quali sono i sinonimi che si avvicinano che la descrivono che la sviluppano il gioco è molto complicato perché è evidente che non rimane tutto attorno ad una parola che la può spiegare ma se rispondiamo a questa domanda ci accorgiamo che ciò che non è politica ciò che non è sinonimo di politica può genere inequivocabilmente tutto ciò che è antipolitica e allora se questa traccia logica la posso seguire in questo ragionamento mi sembra di poter dire che la politica della notte dei tempi nasce perché ci si rende conto quasi spontaneamente che le comunità che si organizzavano naturalmente non potevano essere più governate dalla regola della dimensione personale o della esigenza personale della soddisfazione all'esigenza personale ma si scoprì che magicamente la soddisfazione di ciò che mi premeva passava attraverso una soddisfazione più ampia collettiva da qui nasce la ragione della politica che si organizza che si occupa di organizzare la città e attorno alla città di organizzare la comunità dentro la città per cui la politica è esattamente lo straordinario strumento che consentiva alle comunità di organizzarsi di convivere di vivere di darsi delle regole di darsi delle ambizioni e poi di ambire a raggiungere livelli di soddisfazione ulteriore la politica nasce per risolvere i problemi se la politica nasce per risolvere i problemi quando la politica non risolve i problemi quando la politica non si fa carico dei problemi quando la politica è concepita come la cosa più distante a ciò che mi è più vicino invece e cioè che il problema dell'oggi che mi si presenta di fronte dal problema più immediato che può essere quello che affronta il comune ogni giorno ha il fabbisogno di lavoro ha la necessità di avere una prospettiva ha il diritto allo studio ha il diritto all'approfondimento ha il diritto alla crescita ha il diritto all'infanzia tutte queste sono domande se la politica non risponde alle domande è percepita incapace di rispondere alle domande che provengono dalla gente è automatico che si sviluppa quel sentimento contrario che è l'antipolitica l'antipolitica è l'affermazione di una politica che non fa l'antipolitica è esattamente il contrario di ciò che dovrebbe essere lo strumento che noi ci diamo per risolvere le questioni della vita collettiva io penso questo sia accaduto nel paese e sono d'accordo il professore quando pone alla nostra attenzione che la crisi non sempre è solo un problema ma può essere forniera di opportunità perché la crisi brucia ciò che c'è dietro anche le certezze anche i diritti anche ciò che noi credevamo essere finalmente raggiunto rimette tutto in discussione ma automaticamente genera delle prospettive naturalmente ci convoca ad una nuova dimensione e anche qui viene riconvocata la dimensione della politica in termini laico non partitico cioè di fronte al cambiamento la politica è in grado poi di immaginare quelle risposte a ciò che intanto brucia la crisi e che non si ferma la crisi evoca a mio giudizio anche un'altra idea che è la idea del movimento la crisi non è ferma la crisi è in continuo movimento cioè consuma e affronta ogni giorno le questioni della vita collettiva bisogna capire se la politica corre alla stessa velocità dei fenomeni reali che la crisi pone o se la politica è incapace di correrli dietro se la politica si limita a correrli dietro cioè semplicemente a seguire le emergenze o in grado di anticiparle oltre che di fronteggiare nella politica e dunque nell'antipolitica vince l'antipolitica si germa e vince sulla politica quando ci si limita semplicemente a rincorrere a fronteggiare l'emergenza la condanna maledetta ad un presente che non riesce mai a trovare una minima visione un'indicazione una rotta una via e se ci pensate fino in fondo la crisi che ha generato effetti nell'economia nella vita delle persone che è fatta di posti di lavoro che non ci sono di prospettive di occupazione che non ci sono di difficoltà di intrapresa che non ci sono di mortalità delle imprese tutto questo però si confronta e si scontra ogni giorno con coloro i quali dovrebbero poi darle le risposte ma non perché hanno la bacchetta magica e perché possono pensare che quasi appunto con un batter di vita dal tecnico dalla competenza tecnicale Monti o dall'innovatore più innovatore che ci può essere che ha le mie simpatie come Renzi si possa trovare una soluzione immediata al problema che oggi si vive la politica non ha solo quel dovere la politica oltre a fronteggiare l'emergenza ha il dovere di indicare la via la prospettiva dove si va a parare dove si va a parare rispetto a tutte le variabili che ci sono e che sono in campo e appunto io vi dicevo se pensiamo e se pensate fino in fondo a come si sta ragionando reagendo rispondendo alla dinamica della crisi io penso che noi la potremmo legare limitatamente all'oggi alla condanna di un presente che praticamente brucia ogni giorno se stessa senza immaginare è una prospettiva se quindi io potessi indicare due ragionamenti alla vostra attenzione certamente cercherei di indagare fino in fondo per capire l'antipolitica qual è il sinonimo della parola politica e allo stesso tempo il sinonimo e allo stesso tempo il movimento rispetto alla staticità il movimento della crisi rispetto alla staticità della politica ora questo ragionamento conduce e va alla conclusione perché non sia né noioso io ma soprattutto per rassentire il contributo degli altri impone non solo di parlarne e di ragionare di ciò che è la politica di ciò che dispiega l'antipolitica di ciò che si fa in comune ogni giorno ogni cambiamento ogni passaggio è fatto da chi poi la partita la gioca da chi decide di rimanere sugli spalti da chi si mette la maglietta da chi scende in campo da chi tira il regore anche sbagliandolo è fatta di queste cose e in un momento di passaggio la storia è stata fatta di tanti passaggi si sviluppano delle categorie e senza sbagliare nel semplificare però poi due ce ne sono alla fine quelli che ci provano e quelli che stanno a guardare e se c'è una condanna che io mi sento di lanciare alla politica e quindi anche alla mia parte politica e dunque sfidando me stesso e tutti gli altri a ragionarci su e che non si può aspettare che il trionfo in ogni passaggio degli inermi di fronte all'antipolitica facciano poi vincerla sui buoni propositi che la politica comunque ha e per politica non intendo i partiti non intendo le organizzazioni attuali né le organizzazioni di ieri senza nostalgia né quelle che ci saranno domani intendo la politica e allora io non mi scrivo al partito degli inermi che sta a guardare voi oggi non vi scrivete al partito degli inermi che sta a guardare occupandomi di questo tema perché poi la storia consegna queste due figure cioè coloro che i quali la partita l'hanno giocata e coloro i quali no di fronte a tutto questo io penso che la prospettiva del nostro paese richiederà necessariamente degli scontri e questa parola non è una brutta parola perché lo scontro intanto si possono scontrare le idee poi si possono scontrare punti di vista differenti poi però prevale qualcosa che è il frutto di questo tempo perché che cos'è il frutto di questo tempo qual è la lettura di questo tempo che si dà di questo tempo e del tempo che verrà o siamo ancora maledettamente legati a formule nozionismi che vengono dal secolo scorso e che in qualche maniera si ripropongono in modo più o meno modellato e che diventano e che diventano le regole o elementi di ingrandimento con cui guardare una società completamente diversa rispetto a quella esattamente di cento anni fa io non so se posso fare riferimenti alla mia dimensione al mio partito senza criticare gli altri ma se io immagino il secondo tempo del partito a cui faccio parte e mi riferisco al partito democratico cioè un parlamentare che certamente potrà evidentemente convenire o meno e penso che il secondo tempo del PD è quello di un film invece già visto concluso chiuso perché il tempo lo ha superato cioè la riedizione di una supposta maggioranza socialdemocratica scignottante quella che c'era nel secolo scorso e che dovrebbe in qualche maniera riproporsi per leggere con quelle lenti di ingrandimento quello che accade oggi poi si finisce anche per firmare il referendum su una riforma del lavoro che c'è stata si finisce a fare le scelte che non c'entrano nulla con il tempo che noi viviamo e non c'entrano nulla soprattutto quel tempo che dovremo vivere concludo da sempre la politica con gli alti e con i bassi si è occupata di tentare di lasciare qualcosa in più di quello che aveva trovato questa era la formula per cui le condizioni dei nostri genitori sono state più o meno migliori di quelle dei nostri nomi quelle dei nostri nomi sono state migliori di quelle dei nostri bisnomi parlo in termini di solidità economica cioè lì c'era una specie di patto generazionale dove non poteva prevalere l'egoismo dell'oggi a danno del futuro quando si dice che dagli anni 80 in poi nel sindacato nella politica ha vinto l'oggi e quindi la condanna all'oggi e all'emergenza dell'oggi significa aver scaricato al futuro tutte le non scelte tutte le non soluzioni tutti i problemi la voglio fare un esempio le belle pensioni sono l'esempio più evidente di come sia stato aggredito il diritto al futuro di giovani non ancora avanti i quali non l'avrebbero mai avuto e non l'avranno mai più non quel diritto ma neanche una cosa che si assomigliasse a quella prevenzione e allora oggi c'è questo in campo noi dobbiamo recuperare fino in fondo il valore della politica e concludo ritornando a esattamente a quella che è sempre stata che è che dovrebbe essere cioè occuparsi dell'oggi ma per lasciare al futuro non i problemi non le le difficoltà molti di voi sono giovani giovanissimi decideranno di avere una famiglia o meno decideranno di avere una prospettiva quel tempo non può essere più delegato quel tempo va occupato e per farlo va ripensata la funzione della rappresentanza non è pensabile che ci sia un popolo di rappresentanti restretto e un larghissimo popolo di rappresentanti perché questo equilibrio che non funziona più tra rappresentanti e rappresentati ha generato quella distanza sverale che ha generato questo sentimento diffuso di antipolitica che non è grillismo perché il grillismo è la deviazione dell'antipolitica l'antipolitica è la percezione invece esatta di quando la politica non funziona e quando la politica non funziona poi si generano i fenomeni deviati quando la politica funziona non c'è spazio se c'è buona politica non c'è spazio per null'altro se non per una protesta che in ogni tempo c'è stata ecco io credo che se queste sono i binari del nostro ragionamento noi dobbiamo continuare ad approfondire partiti le organizzazioni tutte perché ripeto questa sfida non riguarda solo i partiti riguarda un po' tutti e se questa società oggi non funziona e ci sono veramente difficoltà davanti agli occhi dei giovani immaginando quello che dovrà essere domani non è solo perché ha fallito la politica dei partiti perché c'è stato quasi un patto in questo caso generazionale improntato ad un egoismo generazionale che ha generato il paese che noi oggi abbiamo e che non ci abbiamo più nei diritti nelle prospettive nelle sicurezze e che in qualche maniera dobbiamo riaquandare sapendo che ciò che è stato non sarà ma ciò che sarà dovrebbe cominciarlo a vivere o a decidere chi quel tempo lo vivrà grazie ringrazio il dottor D'Alessandro anche perché è rimasto ampiamente nei tempi previsti e do la parola al dottor D'Alfonso anch'io sono lieto contento e soprattutto riconoscente nei confronti di coloro i quali hanno organizzato questa nuova edizione credo di una parte conclusiva del Master e mi convince molto diciamo il carattere itinerante è un contributo alla buona vita da parte delle università nei confronti del territorio e di ciò che sta a cuore al territorio quindi davvero stringo la mano sia al professore ungaro che ha i suoi impegnati studenti io vorrei cercare di aggiungere qualche provocazione e anche qualche riflessione tentando anche di essere diciamo scandaloso nel tematizzare con i miei apprezzati interruttori sono contento che c'è anche l'onorevole Maran del quale mi convince molto l'approccio e anche diciamo il coraggio innovativo nell'essere rappresentante di tutta la nazione in quella specialissima aula parlamentare allora il professore ci ha già aiutato nel sollevare quali sono le grandi questioni tematiche di questo incontro crisi politica ed antipolitica intanto mettiamoci d'accordo la crisi evoca sempre la categoria del passaggio quella del cambiamento è quella del passaggio passaggio e cambiamento evocano degli scossoni il venire meno di un equilibrio e chi è che è convocato dalla venuta meno dell'equilibrio che viene portato con sé dalla crisi la convocazione riguarda la politica e se all'appuntamento della convocazione della politica la politica non è all'altezza scatta la rottura e io leggo quello che in termini di volgarizzazione si chiama antipolitica come l'inadeguatezza della politica non sono neurochirurgico come sanno essere alcuni giornalisti e alcuni filiformi parlamentari i quali dicono che anche l'antipolitica ha una sua dignità politica sono appassionato sono coinvolto sono interessato nell'aderire ad una lettura di una certa scuola di pensiero anche scientifico che si sagoma nel campo accademico come scienza della politica che vede come espressioni secondo me apprezzate Gianfranco Miglio Lorenzo Ornaghi ma anche personalità tipo l'onorevole Melis che è compagno di impegno politico dell'onorevole Maran i quali tentano di distinguere la politica che si guadagna l'appartenenza della cittadinanza e della comunità rispetto alla politica che non ce la fa do adegnarsi questo ma la categoria il paradigma è la funzionalità quando la politica funziona porta a casa con sé la partecipazione il coinvolgimento il sì il consenso anche una crescita collettiva di responsabilità e poi su questo e di questo dirò qualcosa anche di storicamente dato quando invece la politica non funziona si determina la confusione il protagonismo della folla la mancanza di ruolo dirigente e noi di questo ci dobbiamo occupare io provo a dare un contributo poniamoci una domanda qual è il più importante strumento che utilizza la politica per riuscire a funzionare e qual è lo scenario grazie al quale la politica può essere verificata lo scenario è lo scenario del potere lo strumento più importante della politica è il potere vedete io do un giudizio dell'esperienza di molti do un giudizio quando sono decisore territoriale e do un giudizio quando interroppisco con personalità della politica nazionale come Maran ma anche con studiosi di rilievo nazionale come il professore Umero per me Monti ha regalato all'Italia un pezzo di Europa una volta l'onorevole Barbi diceva facciamo in modo che ci sia più Europa in Italia ci ha regalato un pezzo di europeismo nel senso che ci ha insegnato l'aggancio all'equilibrio di bilancio la decisione la decisione istituzionale pubblica deve avere l'immediata copertura del controcanto del bilancio pubblico questo nobilmente ma sotto il nome del patto di stabilità ma accanto a questo a mio avviso lui Monti e la sua squadra di governo ci ha richiamato l'attenzione sulla grande questione che le decisioni hanno bisogno anche di risorse della mobilitazione delle risorse noi historicamente abbiamo saputo che l'unica risorsa che merita di essere citata è la risorsa finanziaria e la risorsa virgola e di queste la risorsa finanziaria è compito della politica di precisare dove è e dove è nelle giuste quantità io però voglio qui dire ad alta voce in termini molto semplificati che accanto alla risorsa finanziaria c'è un'altra dignitosa risorsa che è la risorsa del potere che coincide con l'espressione risorsa della norma che va usata che va usata un bravo amministratore è l'amministratore che non fa la danza della lontananza rispetto alla norma che non fa la danza della lontananza rispetto al potere ma lo usa il potere e usa la norma poiché l'onorevole Maran non è un testimone passivo delle attività del paese io per esempio sostengo che passera se si dovesse sottoporre ad un giudizio evangelico verrebbe bocciato perché avrebbe tutti i talenti ma non sta combinando nulla salvo un eloquio avvolgente salvo l'espressione diciturale ogni volta azzeccata agenda di qua agenda di là ma non accade il fatto successivo e il fatto successivo è l'accadimento è l'accadimento l'accadimento che noi vogliamo che si verifichi è l'accadimento di una nuova stagione di nuova natalità imprenditoriale è l'accadimento di una nuova stagione di nuova realizzazione infrastrutturale come fanno le agende nazionali della Francia della Germania delle migliori regioni statuali degli Stati Uniti dove cioè c'è un'agenda di priorità che poi trovano copertura finanziaria copertura amministrativa copertura normativa copertura di priorità ed sono esattamente i campi di lavoro della politica io adesso lo dico e spero che venga registrato mi permetterò una battuta io sono stato compagno diciamo di militanza istituzionale in un periodo 95-2000 di un presidente della giunta regionale che era gradevole usava tutti i congiuntini al momento giusto aveva anche un che di bravura anticipatoria rispetto all'europeismo che ci serviva aveva anche una nobiltà di storia di provenienza conosceva tutte le arti del temperamento mite l'unica cosa che non faceva però non prendeva una decisione neanche con il fucine e lui se si trovava in Abruzzo diceva che avrebbe cominciato a fare quando sarebbe arrivato a Bruxelles se si trovava a Bruxelles diceva che avrebbe cominciato a fare quando sarebbe tornato in Abruzzo io ho la sensazione che sul tema delle emergenze che ci riguardano ci sia un atteggiamento da Staleolio del tipo di quello del Presidente che ho richiamato si parla su un versante delle necessità della vita delle imprese e si invoca come se fossimo in una permanente trasmissione o televisiva o accademica tutto quello che servirà di fare salvo però mai incolonnare tutto quello che serve e come ci possiamo meravigliare che poi non si determini uno spazio crescente di ruolo della vita o di una condizione di sospensione della dignità della politica nella sua capacità di promuovere efficacia efficienza funzionalità quali sono le caratteristiche che si devono instradare nel rapporto potere pubblico cittadinanza e il potere pubblico nasce per cessioni di sovranità dei cittadini non è figlio dell'immaginazione di Crizia o degli optimati sono i cittadini che organizzano l'insediamento del potere pubblico attraverso le quote di fiscalità per la parte in cui il potere pubblico genera anche erario e attraverso la rinuncia alla propria forza individuale facendo in modo che nasca la concentrazione della forza pubblica in capo al potere pubblico ma il privato cittadino quando fa questo poi si attende l'altra parte del contratto perché va in onda un contratto di tipo sociale e nell'altra parte del contratto devono accadere una serie di realizzazioni che consentono alla vita del cittadino quella che si chiama la buona vita che è caratterizzata da facilità nei rapporti con il potere pubblico con l'amministrazione da velocità deve darsi luogo insomma la comodità è una categoria che svela rivela fa toccare con mano se un sistema funziona o meno e non è possibile che quando ci si approccia ai centri di erogazione dei servizi tutto è molto complicato io non voglio parlare adesso della sanità voglio parlare di questo soggetto centralissimo che è l'impresa l'impresa quando ha da nascere il suo progetto nuovo la pubblica amministrazione virgola il potere si devono compiegare devono diventare una funzione una proboscide al servizio se è vero come è vero che esiste una grande questione che è la mancanza del lavoro per coloro i quali hanno forza lavoro se questo è la politica di che si deve occupare precisare quella che in America si chiama l'interesse nazionale quella che un grande Giuliano Amato molto meglio di quelli che vanno in giro adesso molto meglio diceva il problema dell'Italia è che non c'è un'agenda con l'interesse nazionale e che cos'è l'interesse nazionale? è quella quantità di obiettivi sopra tutte le parzialità che si realizza a prescindere dei colori che prevalgono è quella che i veltroniani di sangue buono chiamano l'agenda Monti che deve durare anche dopo Monti vedete quando si verifica la crisi e la crisi non è una stagione sola in tutte le stagioni della vita collettiva ogni volta che si introduce un potente fattore di cambiamento che riguarda la produzione dell'inchiostro per fare sì che il diritto all'informazione sia un diritto vissuto e partecipato oppure quando si introduce nella vita collettiva un potente generatore di forza motrice come potrebbe essere quel liquido straordinario che è anche causa di guerra nel corso dei secoli come il petrolio insomma quando si determina un potente acceleratore nell'attesa della comodità della vita dei singoli delle collettività lì si crea una crisi e la crisi richiede da parte della politica un continuo adeguamento un continuo pensamento di nuovi strumenti io mi sono guardato qualche pagina di storia che convince se potessimo datarla ecco è arrivato il presidente di Giuseppe Antonio che ci fa piacere scogliere con un salto mi sono rilezzo qualche pagina di storia che convince e ho trovato per esempio una grande stagione di crisi che venne rilevata fotografata e fronteggiata e risolta al tempo diciamo della fine delle prime espressioni monarchiche dell'antica Roma e l'arrivo della prima forma repubblicana la goccia che si studia nei libri di scuola media inferiore fu una vicenda di amori e di sentimenti e di prepotenze ad opera di Tarquinio il superbo ma la vicenda chiamava in causa la presa delle terre da parte di coloro i quali con le terre dovevano procacciarsi il da vivere ed erano i plebei del popolo minuto che cos'è che si determinò da parte della politica come reazione si determinò l'espressività di una intuizione di innovazione politica istituzionale giuridica che era la possibilità riconosciuta anche ai plebei di esprimere una presenza all'interno della dualità dei consoli di governo anche i plebei ebbero la possibilità di partecipare vedete l'adituamento istituzionale è uno strumento per fronteggiare la crisi per superare la crisi e chi se ne deve fare carico la politica alla condizione che abbia le idee che non sia la competizione politica il combattimento della politica e della politica che non sia una vicenda di pettinatura di capelli o di dimensione estetica anche se l'espressione estetica ha dentro di sé anche la radice semantica etica ma non può essere insomma una questione di velocità espressiva ciò che fa preferire l'uno all'altro deve essere una qualità della proposta politica deve essere una qualità della prediculazione politica consentitemi un esempio ancora noi viviamo un pezzo del nostro tempo politico corrente all'insegna di una priorità che sta reggendo le agende delle province nelle province e anche nelle prossimità della vita delle province si sta discutendo se accettare o meno e come accettare questo invito del governo del paese alla razionalizzazione del numero delle province come siamo arrivati intanto a stabilire questa priorità ci siamo arrivati con dei requisiti con degli indicatori e dei criteri che sono veramente figli dello sbadiglio si è stabilito come criteri per razionalizzare le province due elementi che gli avvocati penalisti direbbero che sono inconferenti il criterio del suolo e il criterio della densità abitativa sono due criteri assolutamente inconferenti con la natura specifica di funzionalità delle province ma siccome anche quando si prende la palla per il verso sbagliato può funzionare io dico lasciamo stare e lasciamo stare che chi si è occupato di questo sia solo un giurista quando nel consiglio dei ministri abbiamo un bravo conoscitore della dinamica economico territoriale come Fabrizio Barca e probabilmente lui poteva inquadrare come riorganizzare le aree ottimali del paese Alessandro andava fatto un dibattito all'altezza per cercare di capire se non avevamo ancora il tempo per provincializzare lo Stato e la pubblica amministrazione nei territori facendo in modo che si asciugassero tutti quei tronini che ci sono nel territorio che si chiamano per esempio il direttore della motorizzazione il provveditore agli studi l'ex figura dell'intendente di finanza potevamo immaginare noi che nel luogo dell'ente provincia si concentrassero tutte le articolazioni della pubblica amministrazione determinando la provincializzazione della pubblica amministrazione e la univocizzazione della pubblica amministrazione ci voleva un'idea prefigurata una lettura anticipatoria dei fatti ci voleva la previsione ci voleva la dimensione del progetto ci voleva la politica che andava in onda ci voleva insomma un questionare sulle cose che ci riguardi non le straneità che vedo io a volte che poi produce paura timidezza invisibilità trasparenza di alcuni parlamentari che sono trasparenti ma la trasparenza non quella che invocano i carabinieri la trasparenza è la invisibilità vedete e la dico in termini concreti perché mi piace molto questo profilo della concretezza quando si comunica ma non per organizzare una narrazione da San Giovanni in venere che la concretezza collega alla cosa la parola vedete io l'altro giorno parteciato ad un dibattito di presunti sapienti alla provincia di Pescara ho detto ma siamo sicuri che alla cittadinanza interessi la razionalizzazione degli enti provincia la provincia è stata prima svilita demolita e poi è chiaro che la sepoltura va da sé io non voglio parlare non mi voglio cimentare in ordine alla razionalizzazione degli enti provincia se io dico a un cittadino della mia provincia o della mia regione quante volte ha parlato col segretario il generale della provincia lui mi dice non so manco che esiste perché è svilito e privato delle competenze io invece voglio lavorare alla razionalizzazione delle comunità provinciali dei territori provinciali delle funzioni dei flussi provinciali delle reti provinciali voglio creare un'amalgama di spazi omogenei che ridanno perché la politica deve fare questo continuo lavorio ad amalgamare a compattare a rendere più funzionante sapendo che anche le categorie delle grandezze delle funzionalità col tempo cambiano ciò che cercavamo nell'ottocento come categoria della forza che era la grandezza nel 2000 è rotto nel terzo millennio la grandezza non vale nulla sul piano della qualità della vita nei territori a Mantua si è molto meglio che a Bari perché dove si organizza la vita della persona serve la piccolezza e la prossimità dove devono funzionare le grandi infrastrutture serve la grandezza insomma dal livello delle regioni in su vale la grandezza dal livello delle regioni in giù vale la prossimità la capacità di compiegarsi di uno spazio a Campofilone nelle Marche è nata una delle più importanti imprese del mondo che fa la pasta all'uomo altro che della valle c'è una signora bravissima che non ha esattamente la forma per fare la presentatrice al TG5 è straordinaria perché lei ha potuto disporre di tutto un sistema di attenzioni delle istituzioni di quel territorio per cui lì è nata una delle più importanti aziende del mondo nel campo alimentare e lì è andata in onda una cosa che si capisce che funziona che crea la credibilità della politica quando la politica accompagna orienta quel livello di organizzazione concludo perché non devo solo io dire se dovessi sostituire per un attimo quello quace che in un partito politico italiano importante oggi e domani come il PD che corrisponde al nome di Fassina lo dovessi sostituire io riempirei una scheda insomma adempirei ad un compito quello di stabilire quali sono le priorità per l'agenda diciamo della crescita innanzitutto davvero ripenserei a tutte le procedure destinate alla nuova natalità imprenditoriale l'ho detto anche in un'altra occasione sono amico dell'ambasciatore turco in Italia che è un formidabile imprenditore che ha preteso di studiare all'ENA francese per fare poi diplomazia in questo governo di Erdogan che davvero incarna il pensiero dei giovani turchi ma dove il pensiero dei giovani turchi è la declinazione della modernizzazione non è la declinazione di una pretesa sostitutiva è l'ambasciatore Akiakil alla mia domanda ma ambasciatore perché la Turchia riesce a rappresentare così formidabilmente la Germania del mare come mai ci riesce ma ha detto D'Alfonso amico mio per due ragioni la prima diciamo un calcio alla schiena perché da noi non esiste la siesta molto tedesca questa risposta però era musicalmente scherzosa la seconda perché da noi ogni impresa quando vuole realizzare il proprio progetto di vita ottiene il suo sì in sei giorni ma noi a fronte della quantità di parole che sono state fatte da quando c'era il giovane ex radicale alla guida della commissione attività produttive della Camera come si chiamava quello che fa pensare ad un generale che se dovesse assumere lui la guida delle forze armate siamo sicuri che non si faranno più le guerre Daniele Capezzone pose il tema davvero dell'autorizzazione unica a fronte di qualsiasi esigenza della vita dell'impresa c'è una scelta di campo che supera completamente la lettura dell'ottocento che in ragione dell'impresa si divide il campo in due parti da una parte il datore di lavoro e dall'altra parte conflittualmente il lavoratore noi dobbiamo superare quella lettura e riconoscere la centralità dell'impresa e davanti ad un progetto di vita di un'impresa la pubblica amministrazione deve usare per intero l'unico potere illimitato che c'è che è il potere della risorsa normativa e consentire che ci sia facilità di espressività non è possibile che autona un colosso nel nostro territorio regionale per adempiere ad un contratto internazionale firmato con la Francia realizzare l'involucro per il primo esperimento per quanto riguarda la realizzazione di una centrale nucleare a fusione nucleare un abruzzese si aggiudica il contratto per 380 milioni di euro per fare il capannone questo qui 13 mesi 13 mesi di viaggi di fogli di carte di incomprensione e come pensate voi che quella famiglia il management le persone che hanno saputo della catena di lavoro di quell'azienda che tipo di atteggiamento hanno quando vedono il ministro dell'industria che dice e pontifica il Tg non so quale che annuncia anticipa e non accade e poi loro nel concreto vedono il difetto di questa attività realizzativa che non viene facilitata che non viene avvertita come una cosa che conta io ho visto assessori regionali correre rispetto all'organizzazione delle tavolate concernenti il premio scato che è importante perché una regione non vive senza la cultura sta in avanti Ornaghi lo spiega bene lo dovrebbe dire con voce più impegnativa ma è senza dubbio così ma stiamo scherzando alla forza che deve avere quello che una volta si chiamava il primo settore della produzione economica di un paese quello vuole fare c'è il contratto alla posizione di assumere 300 persone e c'è un cincischiare un nascondersi un produrre da parte di tutti i passi laterali ma è chiaro che questo crea la rottura del rapporto di fiducia c'è un'idea sbagliata della funzione del potere concludo professore se in Abruzzo si faranno davvero le elezioni regionali e si faranno nel senso che scuoteremo le famiglie i cittadini gli imprenditori i cassi integrati gli studenti gli intellettuali e andrà in onda una competizione tra quelli che hanno un'idea di questa regione del potere di cui dispone questa regione di quello che deve essere fatto per questa regione e gli altri io voglio vedere quanto spazio rimarrà per coloro i quali rappresentano l'antipolitica è venuto questo gradevole comico a Pescara sei anni fa e lui prima di diventare diciamo un anticipatore di politica altra quando faceva gli eventi girava per la città per raccogliere diciamo occasioni di scherzi pubblici lui disse a Pescara non ho avuto modo di raccogliere alcunché per dire contro al sindaco che governa questa città ma neanche su una rotatoria sbagliata neanche su questo perché quando si va sul pezzo quando si sta sul pezzo è chiaro che lì si sigla un patto con i cittadini quando cioè si usa il potere che questo è anche il tema che uso si fa del potere che idea si ha del potere ecco io sono convinto che su questo anche le università dovrebbero riprendere a tuonare a tuonare a me piacerebbe per esempio oggi ho letto e concludo che Maria Rita Lorenzetti può andare a fare o il componente dell'autore dei trasporti o il presidente magari quella è stata la migliore presidente della commissione dei trasporti dopo Silvio spaventa che sia qua dei trasporti per l'Italia pre-repubblicana che l'Italia abbia conosciuto una donna straordinaria che ha reso la regione umbra e non solo una delle migliori regioni d'Italia sul piano della dotazione infrastrutturale quando vai in onda questo nel rapporto pensiero programmatico vicenda politica decisione istituzionale beh si crea quella condizione che San Marino voleva per i città la perfetta funzionalità io ringrazio ancora il professore e chiedo scusa diciamo dell'entusiasmo del mio dire grazie a tutti 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 ciao e Camillo sindaco e tutti gli amici che sono qui l'argomento insomma è così suggestivo impegnativo e complicato che richiederebbe un approfondimento perché intorno alla antipolitica soprattutto al secondo aspetto del tema che ci avete posto in discussione si gioca il futuro anche del nostro paese ovviamente tutti i giorni la politica non offre buone occasioni per dire che si può far tornare la politica al primato che rispetta c'è una enfatizzazione a volte c'è una approssimazione c'è la demagogia c'è il populismo tutti ingredienti di un prodotto che francamente allontana interiormente i cittadini della politica ma questo poi è cimlico lo diciamo da sempre io svolgo attività politica da molti anni insomma ho avuto anche esperienze assieme a Luciano nei giovedì deco cristiani in un'epoca suggestiva interessante della politica italiana quando c'era la guerra la fretta quando ci scontravamo con i comunisti insomma da una parte è regolare la logica di oggi poiché mi hai consentito un tronetto mi piace diventare lui dirigente nazionale dei giovani dici nella logica di oggi si potrebbe anche intravedere una specie di reato perché potrebbe avere la convenienza di essere quindi naturalmente insomma il periodo veramente interessante della politica c'è bisogno di molta sobrietà io vado per flash voglio ritrobarle qualche minuto altrimenti rischio veramente poi di insomma non interessare l'obiettoria però sono preoccupato sono preoccupato perché rileggendo un po' la storia rileggendo gli avvenimenti che ci sono stati dopo la grande stagione di tangentopoli la politica non esce dalle secche della crisi partiamo dal 22-24 il fascismo doveva essere proprio la reazione alla corruzione parlamentaristica del paese poi insomma abbiamo il movimento dell'uomo qualunque abbiamo Berlusconi adesso abbiamo Grillo insomma sono stagioni che purtroppo hanno segnato la storia dell'antipolitica o della estremizzazione della politica nel nostro paese del resto anche in Europa ci sono segnali in tal senso insomma in Grecia in Germania o l'estremismo antipolitica dobbiamo fare un po' la riflessione che intanto la democrazia è minacciata dall'antipolitica come dalla corruzione come dalla insensibilità della politica nei confronti dei problemi quindi c'è il rischio che nella semplificazione si possa veramente pensare all'uomo forte all'uomo che magari costa meno all'uomo che non appassiona il dibattito nei consessi degli enti locali nel Parlamento l'uomo forte che dice guarda io risolvo tutti i problemi magari riesco anche a superare la crisi riesco a magicamente ad annullare i costi della politica che poi un altro non sono per molti aspetti i costi della democrazia che dobbiamo sopportare perché altrimenti la democrazia non ne gioverebbe una riflessione adesso la colgo dall'esperienza di Luciano Sindaco anche io dalla mia esperienza di Sindaco piuttosto che quella del Presidente della provincia lui dice bisogna stare sul pezzo e si deve avere un'idea non sbagliata della funzione del potere guardate non a caso per esempio i sondaggi che ci sono ma sono anche quelli più attuali portano ad un gradimento importante dei cittadini per i sindaci o per i loro sindaci mentre c'è un divario incredibile e drammatico negli alti livelli che vanno dalla legione per non parlare del Parlamento del governo del paese perché il sindaco che sta sul pezzo l'esperienza di Pescara per esempio l'esperienza lodevole ma io non lo dico perché insomma sono arrivato a riuscire ad un'amicizia ci conoscevo a 30 anni sono stato il suo come dire sostenitore per quella poltroncina che l'ho avviato nel firmamento della politica anche nazionale ma perché francamente ricordo la trasformazione di quella città e stare su tutte le questioni di quella città che ha fatto di Pescara una città trasformata vivibile a misura anche di un progetto amministrativo e politico che voleva coinvolgere questa città e farà diventare anche un po' il centro del politico e geografico dell'intero abruzzo che non aveva avuto fino allora parliamoci chiaramente insomma l'Aquila rispetto a Pescara ha sempre avuto esercitato un peso molto importante perché si curava anche il dettaglio perché l'amministrare e rispondere ai bisogni dei cittadini significa costruire quel ponte antidivorso tra i cittadini e la politica e l'amministrazione facendo in questo modo i consensi arrivano e arrivano in modo copioso anche al di là dell'esercizio del potere fa solo lo sbagliato che magari in molte occasioni si fa attraverso il clientelismo attraverso altre forme sicuramente non giuste di esercitare il potere stesso allora io vorrei veramente che insomma questo paese uscisse da una crisi così profonda che la politica tornasse ad avere il suo primato ma soprattutto che tutti in qualche modo costituissimo una forza in grado di affrontare i problemi veri soprattutto quelli economici soprattutto quelli dell'occupazione senza demagogia e senza populismo guardate anche questo purtroppo questa piazza virtuale che sono i network sociali i stessi giornali no che insomma purtroppo sono i replicanti di facebook perché non c'è mattina che si apre un giornale non c'è il titolo sensazionale c'è sempre il titolo sensazionale c'è sempre l'empatizzazione e c'è sempre l'estremizzazione vorrei che si tornasse veramente a discutere non per spot ma a discutere in maniera concreta sui problemi del paese sono quelli che interessano i cittadini se noi riuscissimo veramente ad affrontarli al di là della crisi che investe il paese che investe il mondo dell'occupazione che ristagna delle persone che a fine mese non ce la fanno probabilmente riusciamo a riannodare i rapporti con gli stessi cittadini certo è molto difficile io penso francamente che che non c'è niente che funzioni bene no non c'è niente che funzioni bene io faccio il presidente della provincia quindi insomma tra l'altro sono sempre così vicino ai focolai di crisi ieri abbiamo parlato della SIXTI e quindi trovi 400 persone sotto il ministero sviluppo economico a protestare perché non hanno futuro perché hanno paura del futuro perché magari ci sono famiglie che anche numerose che non hanno una parte dei componenti non hanno lavoro sono tutte e due casse integrali ci misuriamo con l'inefficienza del paese l'esempio di Ortona lui si riferiva io mi ritesco un po' a battute di Luciano perché non ho avuto il piacere di ascoltare chi mi ha preceduto compreso Camillo l'idea di Ortona cioè quello che succede ad Ortona una grande azienda che riesce ad avere una commessa importante che può perdurare nel tempo quindi può strutturalmente dare lavoro a 300 persone deve purtroppo confrontarsi con una burocrazia e con una politica completamente abursa dalla realtà in alcuni casi bisogna dirlo francamente c'è chi ci mangia no ti rallento la procedura perché tu possa venire da me e quindi voi immaginate perché uno va da qualche persona o in un altro caso è perché c'è questa lentezza c'è questo modo di fare oggi ho ricevuto una mail da un ricercatore del Mario Negri Sud il quale mi dice guarda apprezzo quello che stai facendo per salvare il Mario Negri Sud eccetera eccetera però voi avete scambiato il giorno con un mese no cioè ogni giorno per noi io vi ho spiegato che non è il caso per questa vicenda perché ci sono problemi tecnici molto importanti però è vero cioè dare risposte ad un imprenditore che vuole investire che vuole creare occupazione è una risposta lenta allora c'è bisogno di grandi riforme nel nostro paese credo che uno dei grandi problemi guardate io forse lo banalizzerei ma penso che dall'esperienza amministrativa e politica che ho io direi che questo modo di comportarsi che tutto è complicato e difficile che nessuna cosa è facile allontana il cittadino dalla politica guardate anche il dipendente l'altro giorno ho fatto un richiamo pesantissimo ai dipendenti della provincia dicendo loro guardate c'è un codice di comportamento che dovete rispettare leggetelo perché è veramente un capolavoro che è stato approvato nel nostro paese perché poi è una legge dello Stato vi prego di rispettarlo ovviamente sindacati insomma la parola più dolce che hanno usato nei confronti delle mie parole era un atteggiamento deprecabile guardate quando si va alla provincia e bisogna ottenere un'autorizzazione ad esercitare una qualsiasi attività economica in quella provincia perché magari sono il presidente quindi mi assumo le responsabilità o al comune o alla regione e ci vogliono mesi interi guardate non c'è più possibilità c'è un mondo che cambia la globalizzazione alcuni aspetti importanti che portano a delocalizzare aziende perché trovano non solo nel costo del lavoro insomma non riuscivo mai a competere perché pensare di avere uno stipendio di 250 euro come c'era un operario della Serbia ma competere sull'energia non competiamo perché abbiamo fatto una scelta di campo precisa contro il nucleare ma se noi non riusciamo a fare a rendere efficiente il sistema Italia il problema vero è che veramente la gente si allontana ancora dalla politica gli esempi no questi esempi ultimi dell'uso delle risorse nei consigli regionali nei partiti eccetera cose che tutti conoscono che purtroppo è trasversale a tutti i partiti a tutti i gruppi parlamentari a tutti i gruppi consigliari bisogna essere consapevoli che c'è da riformare basta ad essere già di fronte di questo paese noi parliamo bene ci poniamo di fronte ai cittadini nel dire tutte le cose giuste ma di questi problemi ne parliamo da 40 anni da 60 anni e poi non ci sono dei provvedimenti concreti noi i gruppi consigliari continuano a fare quello che magari è stato fatto a Milano i gruppi parlamentari fanno quello che è stato fatto nella lega eccetera eccetera guardate in una semplificazione in alcune battute vi voglio dire che se non facciamo emergere e se non disotterriamo delle buone prassi nella politica credo che non ci sia spazio l'onorevole Marano potrà dire guardate purtroppo i sondaggi sono un po' preoccupanti no la legge elettorale va bene deve garantire chi sa chi chi sa come ma francamente c'è il rischio che il presidente della repubblica sarà costretto a dare incarico a formazioni diciamo populiste che non sono le formazioni forse più importanti e più significative di questo paese allora veramente rimbocchiamoci le maniche e cerchiamo di dare senso alla politica la politica a me piace considerarla come la considera la consideravo la considera un grande papa Paolo VI che diceva che deve essere la più alta forma di carità cristiana per chi la esercita io sono orgoglioso di esercitare la più alta forma di carità cristiana in modo corretto in modo serio e cercando di corrispondere alle esigenze ai bisogni dei cittadini guardate veramente discutiamo anche in questa regione come poter dare un senso ad una iniziativa che torni a far brillare la politica e a farla diventare diciamo patrimonio di tutti i cittadini attraverso la partecipazione e cerchiamo anche di essere dubbi nei confronti di chi vuole strumentalizzare e di chi vuole usare la demagogia solamente per scoffi troppadermistici elettorali questo è un sistema che riguarda un po' tutti io ci provo a insomma mettere in campo non solo l'esperienza ma un modo di pensare che personalmente ritengo giusto buon lavoro ringrazio 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 il presidente Giuseppe Antonio e lascio la parola all'onorevole mi intervengo ringrazio ringrazio per l'occasione e anche la visione per sentare alcuni amici e intervengo cerco di dire tipo la vedo io in maniera molto schematica ma cercando anche di usare qualche immagine sono un po' efficace ecco tanto cominciò a questo le nostre difficoltà sono essenzialmente difficoltà del nostro paese ma anche le difficoltà individuali di ciascun mondo sono difficoltà di adattamento noi fatichiamo a adattare la situazione universale del paese il nostro modo di vivere di lavorare il modo di produrre ad un mondo che sta cambiando e già cambiato e sta cambiando vorticosamente le crisi non sono un'eccezione nel sistema capitalistico sono una regola attraverso le crisi il sistema evolve cambia dal capitalismo degli esordi descritto da Dickens al welfare state ce ne è passate e il sistema sia adeguato sia adattato in maniera appunto da consentire il progresso la metto così terra a terra e noi abbiamo un sacco di difficoltà però ed è il punto di partenza che vorrei sottolineare abbiamo il periodo di vita più alto della storia dell'umanità e il periodo di pace più lungo della storia dell'Europa cioè partiamo da elementi che ci consentirebbero di affrontare i riguari che ci saranno una certa fiducia che succede invece che le difficoltà di adattamento e da qui poi non la critica politica che è sensata e giustificata ma l'antipolitica sono manifestazioni di rancore cioè la voglia e naturalmente l'impossibilità di dare soluzioni semplici a problemi complessi i problemi restano complessi perché quel terrore di vita più alto della storia dell'umanità e lungo periodo di pace sono stati pagati dagli italiani e il prezzo è stato alto nel senso che vi consiglio la lettura di un fondamentale libretto che è stato ristampato in questi giorni che è quello di Cafagna la grande slavina dove individuano il ventennale i tangentologi sono stati diventati e i problemi sono gli stessi tre elementi della grande crisi cioè tre elementi che hanno concorso a determinare quella che descrive la slavina sono la crisi fiscale una crisi morale e la crisi istituzionale la crisi fiscale che cos'è? che noi non riusciamo a provvedere al sostentamento dell'enorme struttura di welfare di sottenio che abbiamo costruito dico welfare in maniera impropria l'enorme struttura assistenziale che ha garantito il passaggio di un paese poverissimo uscito distrutto dalla guerra e ne ha fatto uno dei più importanti paesi industriali del mondo naturalmente con conflitti in una condizione internazionale terribile perché quel mondo diviso in blocchi aveva una frattura una faglia che passava nel nostro paese l'ho attraversata è per impedire di vampare di un conflitto che poteva essere devastante si è ricorso al debito e al finanziamento pubblico in maniera massiccia la crisi morale che ne è derivata è stata anche la conseguenza di questa intermediazione dello Stato che non ha precedenti tra tutti i paesi del non solo per l'Europa occidentale ma dell'Ox e per i paesi avanzati il nostro paese adesso la dico uso solo le immagini brevifiche efficace appunto la definizione assomiglia molto di più ai paesi dell'Est che non ai paesi dell'Ovest dell'Europa e non a caso il decorso della crisi è molto più simile a quei paesi che non a quello che accade nel campo occidentale non a caso perché se se osservate l'estensione e il ruolo dello Stato è un'estensione di ruolo che non ha precedenti negli altri paesi occidentali potrebbero dire qualcosa in maniera schematica che avrebbero un po' approfondite e non per caso uno dei terzi il terzo elemento di questa slavina su cui poggia la slavina è appunto una crisi istituzionale che non ha ancora trovato una definizione mi spiego come è quando si parla di crisi di scala di crisi morale tenete conto dell'intreccio è ovvio che la esigenza di pulizia e di moralità è un'esigenza che è un'esigenza di per sé ma è ovviamente temporalmente collocabile perché non molti anni fa si tollerava le pensioni di validità false ma perché perché il beneficiario si tollerava evidentemente all'unico l'opinione pubblica perché il beneficiario comprava la fiat dico tanto capisci cioè era un sostegno della domanda l'uso di denaro pubblico seppur impropriamente consentiva di sviluppare l'economia nazionale dico fiat avrebbe potuto dire indes color quando il beneficiario ha cominciato a comprare la Toyota è caduto il parco cioè la globalizzazione l'internazionalizzazione il fatto che noi non sappiamo neppure se questa giacca o questo vestito siano prodotti in Italia o dove diavolo rende impossibile utilizzare quelle armi di sostegno per far crescere la nostra economia se noi oggi distribuissimo denaro non saremmo in grado di determinare di per sé solo con questo fatto una crescita del nostro PIB perché quello potrebbe essere indirizzato dovunque perfino quando le nostre merci i nostri prodotti recano l'etichetta delle medie in Italia non è nemmeno detto che questi siano prodotti dai nostri pari quindi ho fatto un esempio valordo ma per dirvi che guardate che gli elementi della crisi sono finanziariamente connotati l'altro elemento lo stesso sostegno al sistema politico è stato talmente robusto da consentire di passare negli anni 80 un referendum sul finanziamento pubblico con il voto favorevole del 56% degli italiani perché in quegli anni si stava combattendo una battaglia complicata contro il terrorismo cioè in circostanze nelle quali le fratture emergono con quella violenza storitaria complicata l'affidabilità del sistema istituzionale nonostante gli scandali avessero segnato già gli anni 70 e in particolare poi gli anni 80 diventavano tollerabili all'interno di contesti emergenziali qual è il punto vero? il punto vero è il nostro mancato adattamento il cambiamento ha forse una data con un omicidio moro da allora in avanti quell'esperienza è un'esperienza conclusa l'esperienza di quel sistema politico di quel sistema istituzionale i tentativi che ci sono stati per adeguare il sistema al mondo che cambiava sono tutti famigliati da questo a origine una crisi che è ancora una crisi incontenibile e cerco di dirla in maniera naturalmente sempre schematica ma l'adattamento è a che cosa? e dico solo un paio di cose e il primo punto il mondo sta cambiando volticosamente c'è una canzone che qualcuno di voi conoscerà di Leonard Cohen a un verso fondamentale di restituitemi il muro di Berlino poi naturalmente prosegue con una frase in cui dall'idea dello spaisamento del rancore le cose stanno scivolando e stanno scivolando in tutte le direzioni il punto qual è? e non è la crisi finanziaria quando uno storico tra cent'anni sarà chiamato a descrivere i primi anni del nuovo secolo del nostro secolo l'evento più importante non sarà la crisi finanziaria l'evento più importante sarà quello che già oggi gli americani descrivono come the rise of the rest la crescita del resto degli altri la uscita di massa più grande uscita di massa dalla povertà nella storia del mondo l'elenco interminabile non è solo la Cina l'Asia di cui tutti parlano ma dal Brasile al Sudafrica nel due anni fa 30 paesi africani sono due terzi del continente hanno avuto un tasso di crescita non c'è un tasso di crescita superiore al 4% e è evidente che assistiamo ad un spostamento di ricchezza se che ha un movimento una velocità e una direzione senza precedenti dall'ovest all'est del mondo questo comporta un diverso bilanciamento nella bilancia dei poteri noi assistiamo a un cambiamento demografico che non ha precedenti uno dei problemi più grandi del nostro paese è il collasso di interi generazioni di giorni assistiamo a un cambiamento nella forma e nella struttura della famiglia che si fa plurale che non è più quella cosa che abbiamo conosciuto quando eravamo piccoli e un altro degli elementi ve lo cito perché descrive una delle più grandi ossessioni del nostro paese è il cambiamento in una delle condizioni che avevamo per scontate la nostra sicurezza era garantita da altri gli stati non soltanto garantivano la nostra sicurezza rispetto al blocco avversario ma garantivano alcuni servizi di un'unità l'accesso alle risorse energetiche la libertà dei commerci e dei mani se ci date caso questa non è una garanzia che negli stati niente vogliono ne possono più garantire da soli noi abbiamo la nostra forza impegnata nel golfo contro la piraterina era da 700 come succedeva assieme ad altri paesi europei perché ovviamente gli stati uniti chiedono a noi siete più ricchi non voi europei dateci una mano cercate di contribuire assieme a noi alla garanzia di alcuni beni fondamentali per garantire l'accesso alle risorse petrolifere ve la faccio bene in sostanza noi abbiamo in Italia impegnati in 30 paesi nemmeno l'Italia fascista di Mussolini aveva un impiego così variegato all'interno dello stacchiette non soltanto quello vicino anche quello lontano naturalmente quando uno va a casa la gente va a casa ciascuno che va a casa accende la luce non si chiede a dove viene ma la domanda andrebbe fatta e bisognerebbe chiedere che cosa dobbiamo fare un giorno noi per assicurare che quando la gente va a casa accende la luce questa ci sia posto che lo scorso anno abbiamo votato un referendum contro nucleare naturalmente si può ed è tutto legittimo di non nucleare ma poi bisogna dire tanti sì e noi continuiamo a dire no alle paleoniche no ai gasificatori no alle biomasse ed è ancora terminato il che però ci costringe sempre ad una fatica nell'adattamento perché non si può non definire i nostri interessi nazionali come è stato detto poco fa in maniera nitida perché altrimenti lo si fa comunque noi controlliamo militarmente il montereo perché c'è lo smerco a mani in South Stream noi abbiamo una presenza militare dal Libra all'Afghanistan perché ci sono enormi ragioni anche di ordine energetico quindi una discussione pubblica in cui si rimuovano elementi fondamentali dei nostri interessi della nostra proiezione in termine nazionale rende questa discussione una discussione che alla fine non soltanto fa i problemi ma di nuovo cerca soluzioni semplici a problemi complessi abbiamo ritirato non molti mesi fa i nostri contingenti dalla Libia dove siamo stati impegnati in una guerra naturalmente con un mandato e l'ONG ma che dà la dimensione delle cose che cambiano non solo la dimensione delle cose che cambiano ma anche di quanto questo avvenga con degli elementi che ad esempio in altri paesi sarebbero considerati del tutto irrituali e non soltanto irrituali contrastanti le ragioni fondamentali dello spirito pubblico noi stiamo combattendo due guerre abbiamo due guerre una Afghanistan una in Libia senza che la vita delle famiglie fosse interessata questo descrive anche un paese con tutti i guai che è un paese così ricco che riesce a come dire intervenire in uno scenario del genere senza non una manovra finanziaria la costituzione degli Stati Uniti è esplicita in questo tanto che poi le leggi sono conformate e non a caso la costituzione della Guardia Nazionale della Riserva viene impegnata regolarmente nei conflitti perché non deve essere impossibile deliberare lo stato di guerra senza influire pesantemente direttamente nella vita dei cittadini perché altrimenti sarebbe troppo facile naturalmente per loro giustificare lo stato di potenza ma sarebbe troppo facile intervenire con lo strumento militare dovunque senza che questo comporti un dibattito pubblico vi ho citato un esempio paradossale ma per dirvi che noi siamo sempre su un crinale in cui le cose si fanno ma non si piccolano non è un elemento certo uno dei cambiamenti profondi che noi dovremmo affrontare è anche un cambiamento nel dibattito nello spirito pubblico e non possiamo più trattare gli italiani come se fossero dei bambini il vecchio sistema dei partiti aveva anche questo atteggiamento pedagogico questo ruolo in qualche misura sostitutivo era appunto la costituzione materiale si fondava sui grandi partiti perché la tratta di nascita del nostro paese era il 3-8 settembre lo stato scappa e i partiti gestiscono come possono e quello che possono e con il 92 con Tangentopoli la vicenda è finita e noi non possiamo avere partiti deboli e non torneranno mai più quello che sono stati e istituzioni deboli noi dobbiamo cercare di rafforzare le istituzioni in senso lato il dibattito pubblico deve essere una cosa che non può essere consegnata al capito perché noi altrimenti rischiamo di farci molto male per l'avenire e vi ho detto semplicemente alcuni elementi l'elemento che impone altamente forse quello più grande è il venir meno grande spostamento che noi abbiamo voluto assecondato perché è stato uno dei elementi fondamentali della nostra rinascita alla loro guerra è quello della crescersi della dimensione sovranazionale l'Unione Europea in particolare è della di relativo quindi è indebolimento dello Stato Nazionale questa è una dimensione incompiuta perché è evidente che noi non possiamo andare avanti con uno Stato Nazionale che conta sempre meno e con una Unione Europea che non conta tanto quanto dovrebbe contare come Unione Collettività una delle proposte che molti di noi hanno alzato ma che devono secondo me ritrovare il capo è quello dell'elezione diretta rapidamente del Presidente della Commissione Europea cioè noi dobbiamo trovare un elemento di condivisione di responsabilità comune con gli altri paesi dell'Unione nelle elezioni di relazione del esecutivo prima che finisca male in senso per metterla sempre in maniera un po' piccola noi non possiamo pensare che la dimensione statuale non conti l'esercizio dei diritti di cittadinanza l'esercizio dei diritti politici l'esercizio dei diritti sociali sono ancora garantiti dalla dimensione nazionale se questa viene meno è evidente che quei diritti si devono ricostruire e adattare su una dimensione diversa altrimenti semplicemente rischiamo di fermerli il nostro problema specifico adesso cerco sempre di farla di corsa in questa no per non farla rilisca in questa fatica di adattamento in questo mancato adattamento ha alcuni elementi che sono riconoscibili e che sono di nuovo elementi permanenti dei nostri dibattiti spesso nascosti dalla furia econoclasta dall'antipolitica via tutti è la cosa più semplice dire che cosa bisogna cambiare e che cosa deve andare via è un po' più complicato in un paese che ha 8 corpi di polizia tra i quali sono militari guardia finanzi capire i corpi per i miei che ha 5 fonti si utilizza la guardia forestale come polizia giudiziaria per le indagini e la polizia per i dinziari ha una propria flotta per spostare i detenuti ecco in un contesto del genere dopo la riforma del titolo quinto sulla quale tornerò perché ci siamo dati poi facciamo finta di averlo dimenticato un assetto federale che mutua grosso modo il sistema tedesco e quindi non è possibile mantenere quello di prima che mutua grosso modo il sistema francese noi una ragione ce la dobbiamo fare o questo o quello e in un sistema che abbiamo costruito così dovremmo dire una cosa molto semplice una polizia federale e una polizia locale punto abbiamo 4 servizi segreti che avevano a che fare con il vecchio sistema per cui i servizi segreti servivano soprattutto a controllarsi la vicenda è raramente ad avere un impatto oltre le dimensioni territoriali nazionali in un contesto in cui allora è invece vizinato a provvedere questo e tutto ma insomma l'elenco è interminabile non ve lo faccio ma dire che cosa bisogna cambiare è molto più difficile che non dire vabbè adesso si volta semplicemente pagna magari trovando un nuovo inter per dire le stesse vecchie idee e no noi dobbiamo cambiare quelle idee dobbiamo mettere mano ad una nuova popolazione non semplicemente mantenere tutto così com'è pensando di trovare nuovi protagonisti e se no finiamo fuori strada in questo contesto le cose che ricordano sono semplici con due o tre hanno un enorme problema di crescita tre quarti dei nostri problemi derivano dal fatto che il nostro paese non cresce più ma non cresce più da 30 anni non da 30 anni perché non cresce più da 20 anni perché la nostra produttività la produttività del lavoro quella che gli economisti chiamano la produttività totale dei fattori quindi anche il rendimento dei capitali è la più bassa tra i paesi dell'Oxido il che vuol dire sempre in maniera terra a terra che se per fare questo orologio i tedeschi ci mettono 1 ore noi ci mettiamo 10 ore la cosa naturalmente la produttività non è derivare dal fatto che gli italiani lavorano poco ci sono gli italiani lavorano troppo poco e dopo vediamo come ma lavorano moltissimo il guaio è della produttività e il dato termine non è tutto quello che va delle strade che non funzionano delle ferrovie che non ci sono noi dobbiamo aumentare la nostra produttività altrimenti non sarà possibile aumentare i salari fare tutte quelle cose che noi diciamo di dover fare che non ci sarei fatto perché è evidente che la possibilità di accrescere e di costruire ricchezza è decisiva per poter spendere le risorse noi non siamo più nella condizione di poter spendere le risorse a debito anzi dovremmo comprimere già quell'enorme debito che abbiamo costruito sulle spalle dei ragazzi di rarmi noi abbiamo un enorme problema di disuguaglianza che è crescente rispetto agli altri paesi ma la cosa più aggacciante non è che noi siamo un po' più diseguali dei paesi non d'Europa va bene potremmo anche farci una ragione la cosa più incredibile è che ci sono dei dati esamiamo quelli Europa 15 quelli Europa ricca dove c'eravamo anche noi come presi fondatori noi siamo tra gli ultimi quando si tratta il mercato produce risultati di disuguaglianza ma quando interviene lo Stato per correggere quei risultati di disuguaglianza normalmente noi peggioriamo la nostra posizione classifica cioè lo Stato non riesce a ridurre la disuguaglianza provocata dal mercato perché tutti noi abbiamo fatto i sindaci e gli amministratori non è così difficile se mi ricordo un po' di tempo fa dovevamo mandare in casa di diposo o all'asilo i figli o i genitori anziani di chi ha come unica misura quella del reddito e vabbè finirà che mandavamo ogni vaso di fiscale i figli di vaso di fiscale in asilo ho detto una cosa panossale ma per chiarire perché lo Stato riesce a ridurre ma soprattutto perché c'è un problema di fondo altro che facevo noi abbiamo un welfare che abbiamo chiamato welfare per esterofilia per comodità perché i giornali improvvisamente hanno iniziato a chiamarlo welfare ma correttamente dal punto di vista analitico avevamo definito come stato assistenziale dove la differenza? la differenza è che nei sistemi prevoluti il titolare del diritto è il cittadino l'individuo nel sistema che noi abbiamo costruito tenaglie fin di ferro perché il paese è povero quello che eravamo il titolare del diritto è la famiglia la quale funziona al proprio interno come redistruttore naturalmente questo poteva funzionare nelle grandi famiglie di un tempo e nel modello bruttino in cui lavorava il papà che bastava che non lavorasse e la mamma stava a casa ma con famiglie sempre più piccole in un contesto in cui noi dobbiamo far partecipare di più le donne al mercato del lavoro 20 punti meno del nord Europa 10 punti meno della Germania uno dei più bassi tra i paesi dell'Ox tenete conto che la principazione del donne al mercato del lavoro in questi anni è stata più importante dell'ingresso della Cina nell'economia mondiale è uno dei fattori di crescita più importanti in una situazione del genere un'altra che si basa sulla famiglia non può più stare in piedi l'elenco delle distruzioni enorme si implica la condivisione dell'abitazione il che impedisce la mobilità territoriale che è uno degli elementi della crescita c'è una ghiacciante indagine inglese in cui si dimostra che il 75% degli italiani vive e lavora vicino al posto in cui è nato il 75% degli inglesi vive e lavora lontano dal posto in cui è nato questo può avvenire soltanto con un sistema di welfare che sostenga questa mobilità ma insomma anche qui l'elenco è lunghissimo noi abbiamo un altro tutto qua non ce ne sono di più ma sono fondamentali a questo si aggiunge il problema del debito che non è stato costruito per garantire infrastrutture e pensare al futuro ma è stato costruito per garantire il reddito corrente ogni anno che Dio manda in terra noi dobbiamo pagare per chi percepisce le pensioni beh vi ricordate 19 anni 6 mesi un giorno e poi diventavano 14 in molti casi 7 miliardi di euro bilancio lo Stato consegna ogni anno 7 miliardi di euro a chi percepisce quei benefici di allora con quei soldi lì noi avremmo organizzato un sistema di ammortizzatori universalistico per tutti i livelli questo è il grande impatto che hanno scelte che hanno giustificate allora ma che oggi presentano il conto in questo contesto noi registriamo la scarsa fidabilità del sistema politico istituzionale naturalmente è un circolo vizioso siccome la nostra crisi è essenzialmente una crisi di fiducia noi dobbiamo riuscire a ricostruire condizioni di fiducia e di legittimazione al meglio riusciamo naturalmente qui c'è anche molta come dire il solito allarme è un racconto regionale che non è un racconto così esatto in tutti i paesi occidentali la fiducia sta scemando nei confronti della politica delle istituzioni non è un caso esclusivamente italiano un analista come lo svalò parla della società della sfiducia e c'è un libro anche lì terribile di un inglese un analista inglese colenei che si intitola Why we hate politics e se la odio in inglese figuratevi gli italiani e le condizioni però anche qui guardiamo il bicchiere mezzo pieno queste sono il risultato non soltanto delle tante difficoltà che ci sono sono il risultato dei nostri successi gli individui sono tendenzialmente più autonomi più liberi e si organizzano ogni giorno la vita quotidiana non per dipendere dall'elite ma per sfidare l'elite questo vale nei paesi di democrazia matura avanzata come vale nei paesi in cui si costruisce la democrazia la primavera araba non nasce dalla miseria nasce grazie al cielo dal fatto che quei paesi cominciano a diventare un po' più ricchi un po' più evoluti soprattutto tassi di istruzione di sostegno sanitario adeguato che rendono possibile quella aspettativa e quella rivolta rispetto a situazioni percepite come intogrande quindi questo è un paesaggio uno scenario con il quale non dobbiamo abituarci a convivere la politica non tornerà mai più quella che è stata e sempre più il ruolo della politica deve essere quello di chiederci che qualcuno definisce come criterio di Mosè cioè la capacità di portare il proprio popolo da un posto conosciuto ad un posto che non si sa nemmeno dove sia e dove si trovi e qui qui c'è un po' il valimento la difficoltà di questo passaggio noi abbiamo perso vent'anni anche perché c'è stato l'enorme come dire la discesa in campo di Berlusconi e la parte nostra e l'autonomia critica il nostro animo di Berlusconi l'utilizzo di Berlusconi Berlusconi non è la causa Berlusconi è stato il sintomo di una società cambiata anche dal punto di vista valoriale su questo c'è una letteratura ampissima per chi volesse guardare a quello che succede anche altrove non guardare semplicemente sempre al nostro ombelico e se avete visto quello che è successo in questi vent'anni in uno dei paesi più civili del mondo come l'Olanda c'è da mettersi le mani nei capelli o il fatto che in Danimarca il secondo partito che ormai scalzerà probabilmente il partito e il governo è fatto da gente rispetto alla quale i leghisti sembrano dei centimobili sono genitalisti quindi questo è come dire una reazione dovunque ad una trasformazione epocale ad una difficoltà di adattamento poi ogni paese cerca di reagire con i materiali che ha ecco io dico perché l'ANIB perché noi abbiamo spesso e interpretato Berlusconi e tutto quello che gli accompagnava come la con una lettura sbagliata l'idea che va bene questa è l'invasione di Vixos dopo di che torniamo dove siamo partiti adesso ce lo togliamo in mezzo e torniamo dove l'avevamo prima ovviamente non solo non si può non è nemmeno giusto perché Berlusconi si è fatto intervio di domande di modernizzazione che sono sacrosanti rispetto alle quali noi dovremmo rispondere sulla base dei nostri valori ovviamente ma prendendole sul serio la domanda di riforma burocratica giudiziaria fiscale è le domande rappresentano domande sacrosanti rispetto alle quattro quella di semplificazione che è stata lungo evocata noi dobbiamo cercare di rispondere prendendo davvero il toro delle corde il nostro enorme problema e qui vengo a sempre a ricerca di FIC è l'enorme estensione dell'intermediazione dello Stato intermediazione pubblica che noi dobbiamo cercare di ridurre ma prima che sia tardi nel senso che ormai sono milioni di cittadini il cui destino e il cui futuro dipende dall'autorizzazione di qualche funzionario di qualche amministratore la cosa lo sta in piedi ma lo sta in piedi anche perché c'è un problema culturale al fondo faccio un esempio così mi spiego Maria qualcuno è stato evocato visto da qualcuno il regolamento di inizio di Bologna e il regolamento di inizio di Monaco il regolamento di inizio di Bologna non di Reggio Calabria ha quattro ruoli il regolamento di inizio di Monaco ha una paginetta perché? perché sono cattivi quelli a Bologna e sono buoni di Monaco no qui c'è un modo centrale perché non è il comune a Monaco che certifica la corretta realizzazione delle imposte dicono Cristina un piatto elettrico è il rapporto tra le parti se questo viene meno si va da giudici che risolve la questione nel giro di qualche settimana la questione è molto semplice se deve essere l'autorità pubblica a certificare la corretta esecuzione allora ci vogliono quattro ruoli questa è la decisione di fondo altra questione che poi impatta io vedo la camera ma è nato un quazzo parlamento continuamente la maggior parte delle norme che si costruiscono si costruiscono per liberare attenuare la responsabilità del funzionario pubblico controllore dell'architetto che dice l'eleco è interminabile quindi se ogni volta si cerca di sistemare allora la normazione è continua e diventa un ostacolo alle relazioni però ad esempio messe così le cose diventa chiaro che una giustizia che funziona non è una concessione a Berlusconi è una delle principali forme che noi dobbiamo introdurre la Banca d'Italia calcola che la perdita di PIV del collasso della nostra giustizia civile è ormai subito ormai l'1% del nostro PIV se si deve decidere cosa fare per tornare a crescere la prima questione è mettere mano alla giustizia civile che spiega lo stato della giustizia civile perché noi abbiamo il più basso investimento internazionale tra tutti i paesi dell'Ox Nuova Zelanda compresa non soltanto Francia ecco è all'interno di queste scelte che noi dovremmo cercare di ricostruire il rapporto con gli italiani di là si passa e ricostruire si passa per tornare alla politica e cercando di dire che l'antiponia non serve l'antiponia serve se contribuisce a dire a queste scelte quali sono dopo di che io dico una mia opinione personale su due questioni evocate quella delle province e quella della crisi istituzionale la mia opinione personale è che noi dovremmo smetterla di pensare di poter tornare a quello che siamo stati e prendere atto dei unitamenti cambiati la nostra Repubblica è già cambiata noi non siamo più una Repubblica parlamentare dall'Italia e siamo già usciti fuori strada nel senso che uso di nuovo la definizione di diamanti che ti dite perché l'ha chiamata una Repubblica bretta e intenzionale perché siamo andati noi ormai al di là e nonostante le nostre intenzioni abbiamo costruito una forma che non è più quella di prima ma non è ancora una forma abbracciata nel senso che il nodo risolto non è quello della legge elettorale il nodo risolto è quella forma del Stato è da un pezzo che la premerci è diventata la fondamentale posta in gioco al punto che si è fatto dell'investitura popolare diretta o come si è diretta mi ricordo che nel 2001 sulla scheda elettorale c'erano i nomi di Berlusconi di Sottempo noi abbiamo introdotto le elezioni in diretta che se vi ricordate è stata per un pezzo il metodo di elezione che sia della regione nella fase transitorale sono passati vent'anni da quando i cittadini hanno risposto con i due referendum di Leonardo e un'ottore da tre e mani che è qui inervocabile il governo lo scelgono i cittadini o il Parlamento naturalmente più volte nel corso del mondo ma quella volta abbiamo risposto tutto il centro-sinistra l'ha sostenuto lo scelgono i cittadini ma se lo scelgono i cittadini il bilanciamento della costruzione istituzionale deve essere coerente noi guardate che ormai d'abitudine poi il procluso che stiamo facendo le primarie scegliamo i vertici monocratici abbiamo scelto per fine i segretari regionali e il segretario nazionale con le primarie non soltanto dal punto di vista delle modificazioni introdotte ormai l'esecutivo ha il predominio e la regia della produzione legislativa il 90% della produzione in Parlamento legislativa riguardo la conversione in decreti ma mica adesso c'è molti sono in Italia ha autonomia e autosufficiente organizzativa con le riforme Cax e D'Alema e adesso addirittura controlla due procedie fondamentali che sono dopo la riforma il titolo quinto il rapporto con i metri locali ecco il crescere del processo di integrazione europea il rapporto con le istituzioni sovranazionali tanto che la legislazione recente in Parlamento riguarda esclusivamente quelli che in altri tempi sarebbero stati trattati internazionali cioè la definizione del meccanismo Santa Stata è un trattato insomma la politica presidenziale è diventata ormai parte integrante della nostra scena nazionale la mia opinione è che noi dovremmo prendere sul serio l'esigenza di fare come in Francia assestare un sistema semipresidenziale in maniera tale che sia possibile ricondurre tutte queste spinite all'interno di un alveo noi non possiamo adesso lo dico come battuta ma così ci capiamo essere arrivati ad un punto in cui il ruolo del Presidente della Repubblica che è stato un ruolo straordinario napolitano se non ci fosse bisogno di inventarlo però è affidato al fatto che noi investiamo sulla possibilità sul fatto che la politica non ce ne avrà altre persone e beh ho capito ma se la prossima volta leggiamo uno non così bravo cosa succede? c'è un vecchio monitor di Popper le istituzioni devono funzionare quando ci sono i cattivi è troppo facile quando ci sono i buoni ma lo sai che funzionano? cioè devono essere congeniati in maniera tale da avere dei finanziamenti è un ordinamento che consenta un funzionamento regolare noi siamo arrivati dicendo una battuta al fatto che la decisione della guerra di Libia viene assunto al Consiglio Superiore della Difesa non funziona non è una cosa di noi possiamo immaginare come un fatto normale una battuta ovviamente poi il Parlamento è intervenuto ma per dire che noi non possiamo immaginare di ritornare a quello che è stato di una forma che ormai non è più non solo sostenibile ma non è e nemmeno la forma che noi stiamo praticando e stessa vicenda riguarda le province e anche qua il vero problema delle province non è l'ipotesi che adesso si fa la strada che è conseguenza di una incapacità di riforma del Parlamento di nuovo la questione vera che si volesse una provincia non è quella che riguarda adesso questa organizzazione naturalmente che viene fatta male per i piedi il nodo vero è la rilevanza costituzionale il nodo vero è il 114 sarebbe stato più corretto come si fa negli altri paesi dire c'è un unico paese che ha quattro livelli istituzionali ed è l'Italia lo Stato le regioni le province e i comuni in Francia ci sono i dipartimenti e i comuni punto in Germania ci sono i comuni e i lender punto il che non impedisce in entrambi i casi di avere enti costruiti e confermati sulle esigenze territoriali con funzioni non solo di coordinamento ma anche che rispecchiano appunto le esigenze dei vari territori ma che non hanno una copertura costituzionale che ha rilievo quando si dice non soltanto di colpire risparmi cioè cercare di risparmi ma di colpire quella famosa internazione pubblica che c'è anche laddove non deve non deve più esserci ma con questa zona e provincia si è cercato di coprire una discussione che non c'è stata sui comuni che è la vera questione noi abbiamo la nostra dimensione la dimensione territoriale dei nostri comuni è quella del medioevo la distanza che si poteva percorrere sulle strade a piedi nelle ore di luce l'80% dei nostri comuni ha meno di 5.000 abitanti il che è un vincolo allo sviluppo che ha proporzioni incredibili non a caso negli anni 90 ce l'avamo arrivati anche noi se vi ricordate al 142 al 90 dopo c'è il sindaco è tentativo di dire guardate andiamo in quella direzione dopodiché mentre noi non abbiamo fatto niente per 30 anni la Germania ha dimezzato i comuni la Danimarca la Gran Bretagna ma ovviamente siccome sono sistemi normali non sono matti che cosa hanno fatto? Hanno affidato a ciascun lender la possibilità di modernizzarsi e quindi in base Wouterberg hanno costruito le dimensioni che vanno per le industrie per le aree rurali in Baviera hanno organizzato il comune capofiglia di un comprensolo hanno trasferito alcune funzioni e hanno lasciato a tutti la banda civica e il gonfalone perché il problema non è colpire l'identità è tenersi per mano e costruire una dimensione che sia in grado di affrontare le sfide dell'oggi ecco adesso ho detto cose ovviamente molto schematiche schematica per concludere con le nostre cose a me farebbe piacere che il confronto politico anche all'interno del PD e nel centro-sinistra proprio in vista del fatto che questa volta al centro-sinistra può essere data l'occasione di governare il paese avvenisse all'interno di un confronto sul merito e su queste prospettive è in discussione la possibilità di mantenere ai ragazzi e ai nostri figli e forse pure la nostra riccaia lo stesso tenore di vita che i nostri padri cioè il paese sta rischiando di finire davvero in serie in vita e la stessa vicenda di Grillo la paura antipolitica in realtà è perfino più tragica noi possiamo gli italiani possono anche permettersi di votare Grillo e di farlo vincere le elezioni bene succede come in Grecia dopo tre mesi si torna a votare vince il centro-destra inevitabilmente perché se non si fa quello che dicono i 36 punti da VCR tanto per capirci si esce e ci battono fuori perché se vogliamo rimanere nel primo mondo le regole sono quelle siccome noi vogliamo rimanere nel primo mondo e se è possibile avere la credibilità per cambiare quelle regole o perlomeno per concordarle anche con noi dobbiamo fare in maniera che la discussione sulle cose da fare sulla prospettiva sia le cose che ci impegnano da qui non solo le primarie ma da qui alla prossima inizia tutto qua ringrazio la domanda Maran anche perché ha parlato con accento di verità per un deputato ma la provocazione antipolitica di nuovo comune insomma è sempre una scelta correggio ci sono domande da parte del pubblico altrimenti faccio una domanda prego allora una domanda per l'onorevole Maran prima mi sono un po' allarmato quando ho paragonato l'Italia ai paesi dell'est Europa perché ad esempio l'economist ha parlato delle tre repubbliche baltiche che per uscire dalla crisi stanno tagliando gli stipendi con gravi ricadute sulla popolazione e adesso però crescono al 3-4% cioè dopo un taglio del 10-20% agli stipendi è il minimo che possa accadere adesso quindi vorrei capire in che cosa l'Italia somiglia a questi paesi e come se ne esce dalla crisi senza dover tagliare gli stipendi che poi invece è quello che sta facendo in questo governo attuale nel momento in cui blocca gli stipendi pubblici e poi certi ministri ogni tanto se ne escono a dire bisogna lavorare di più bisogna fare meno ferie e altre amenità varie grazie cerchiamo di raccogliere se c'è una domanda naturalmente tra tutti prego io mi chiedevo se è vero che la crisi della politica come per esempio è la crisi dell'informazione in Italia o la crisi della scuola o la crisi dello sport perché alla fine la politica è un concetto astratto un'istituzione che per funzionare ha bisogno di chi lo manovra allora io chiedevo a loro e anche al sociologo il sociologo politico cioè è la crisi della politica o dell'uno politico è la crisi dello sportivo o dello sport dell'informazione o del giornalista della carta stampata o della televisione perché sanno bene i nostri politici come gestisce lo Stato e che significa politica con la maiuscola nel senso nobile della parola io leggo tanti articoli di giornale hanno un linguaggio fordito e anche conceptualmente molto chiaro però la maggior parte dei giornali italiani delle testate giornalistiche italiane sono tuttora a servizio di potentati economici e politici allora io credo che sia la crisi dell'uomo sia come individuo sia come rappresentante della comunità e quindi in senso sociale sia la crisi della società sia la crisi della famiglia che la famiglia tra l'altro tassello all'unità di misura della società allora la politica c'è un doppio condito non solo non solo di gestire e questa è una domanda che faccio l'esteriorità il benessere sociale della collettività ma anche con provvedimenti opportuni ed appropriati quella di ricostruire di rigenerare di rivitalizzare l'uomo in senso individuale e correttivo quindi la società e quindi rifaccio anche a un concetto della psicologia evoluzionistica considerata nel senso diciamo di una costruttività nel continuum quindi anche a breve media scadenza di dare l'esempio da parte della politica che è essenziale quindi dell'uomo politico per ricostruire dall'interno da un punto di vista comportamentale ed etico l'uomo come individuo come collettività e come società questo volevo dire molto chiaro grazie ma io volevo dire l'onorevole Marano prima ha spiegato che diciamo così c'è una reazione alla politica in tutta Europa e su questo concordo anche se secondo me bisogna fare una distinzione c'è un punto è l'antipolitica in Olanda e in Danimarca che secondo me ha ragioni anche diciamo di problemi di convivenza civile all'interno dello Stato tra varie diciamo così etnie e antireligioso la presenza di musulmani altra cosa invece è l'antipolitica in Italia cioè in Italia secondo me la ragione è semplice prima si diceva l'antipolitica genera l'uomo forte ma secondo me l'uomo forte è stato generato dalla politica per 17 anni abbiamo avuto un presunto l'uomo forte diciamo così al governo e all'opposizione che molto spesso proprio dall'opposizione veniva supportato e mantenuto in vita quando poteva essere tranquillamente diciamo così annullato ecco io allora mi chiedo e chiedo cioè perché ci sono politici appunto di centro-sinistra cioè il centro-sinistra fa una riflessione di questo genere cioè si interroga sul fatto che per 17 anni alternativamente al potere non si è fatto nulla o si è fatto poco per dare alla politica ridare alla politica importanza perché poi siccome si diceva appunto che gli italiani non sono stupidi non sono bambini uno a un certo punto si fa delle domande e dice tra alcuni che fanno la politica del fare personale no cioè quindi gli ultimi eventi del Lazio dimostrano questo e persone che non hanno mai fatto politica come la faranno si vedrà scelgono i secondi cioè questo voglio dire una riflessione in centro-sinistra la politica in genere l'ha fatta oppure no perché poi con i potremmo e i dovremmo e si potrebbe e vabbè ok ma questi sono discorsi da comizi elettorali ma poi nella realtà c'è una frase ma anche mi ha colpito molto per dire che non è nucleare bisogna dire tanti sì in altre cose questo significa che riallaccia il discorso di D'Affonso della gestione dell'effetto della gestione del potere quindi soprattutto del potere però una riflessione è spontanea noi veniamo da uno Stato da una prima repubblica dove il consociativismo e il collateratismo tra le repubbliche e i partiti della macinata padrona era la garanzia della gestione del territorio oggi è vero che si può dire di non nucleare ma si fa fatica a dire tanti sì perché si vanno a toccare caste e castine e quindi la gestione del potere di cui il chiamato D'Affonso è difficile poi da esercitare sul territorio effettivamente tant'è vero che i copri servono tanto che lo chiamano di qualcuno hanno chiamato gigante tante buone intenzioni ma la difficoltà di cambiare veramente come si può fare la sua idea magari anche quella dell'Affonso rispetto a questi cambiamenti difficili quindi effettuati che di fronte ai programmi il libro delle caste è ben più grande delle buone intenzioni grazie io volevo riportare l'attenzione sulla questione etimologica dei significati dei termini politica e antipolitica mi è sembrato un po' collateralmente dai discorsi di tutti capire che c'è un po' un richiamo al famoso contrattualismo a questo contratto sociale quindi a questa concessione virtuosa e necessaria che fondamentalmente è la ragione della nascita dello Stato dell'esigenza però oggi l'attenzione si dovrebbe spostare a mio avviso sulla importanza dell'ascolto non è più il patto necessario per la sopravvivenza ma sono gli stessi firmatari del patto che chiedono di essere ascoltati e quindi il problema la ragione del contratto non è più la sopravvivenza ma è la stessa esistenza cioè rispondete all'esistenza alle esigenze in base all'ascolto non lo Stato oggi appare come un lisse davanti al canto delle sirene che attraverso varie peripezie tappandosi le orecchie arriva lo stesso alla fine del suo percorso ma ha rinunciato alla tentazione la tentazione di ascoltare di seguire un istinto e questo che noi chiediamo il popolo l'ascolto che lo Stato non si è udita bravissimo allora volevo innanzitutto ringraziare l'intervenuto perché gli interventi secondo me sono stati poco politici ma molto tecnici quindi la cosa mi fa in mezzanotte parto con una riflessione che non l'ha detto un italiano l'ha detto un professore dell'università di Beirut quindi un lipanese non cattolico come me che io ho avuto un modo di conoscere ha detto l'Italia dovrebbe un amante dell'Italia in un armonio mi sembrava l'avvocato dipendentore della Repubblica Italiana diceva l'Italia dovrebbe fare studiare dai ragazzini alle università due capitoli di storia l'impero romano e la Repubblica Marenana il dottor D'Alfonso c'ha un'altra vita e poi mi spiegava perché perché l'Italia ha un suo ruolo che non usa e non utilizza nell'area del Mediterraneo che oggi è anche area mondiale dove l'onorevole giustamente evidenziava le nostre presenze un po' in tutto il mondo per varie umanità ma anche per interessi io sono un ragazzo dell'82 quindi vuole intendere intendere primo secondo il primo il 2 ottobre a Roma andrò a una riunione sui trasporti perché mi occupo di trasporti in uno studio dell'università cattolica con la Bocconi con un'altra società che mi permetto di dire alla consulta della logistica presentato questo studio non con un titolo che cosa dovete fare che cosa si può fare che cosa si dovrebbe fare ma il costo del non fare 2012-2020 che equivale a qualcosa come 100 miliardi perché il sistema Italia e quindi andiamo poi alla produttività quello che è la riorganizzazione dello Stato che l'onorevole evidenziava perché una decisione poi non è vero che è nazionale ma poi la regione le province va a sommarsi in una serie di situazioni che rendono un intervento di un'azienda se tutto va bene due anni la possibilità di insediarsi ecco su questi temi la politica dovrebbe prendere delle decisioni prima nell'analisi e poi nella riorganizzazione dello Stato come diceva l'onorevole per fare in modo che su una richiesta che sia compatibile con tutto quello che è il sistema Italia venga data una risposta sì o no e secondo abbia le priorità nazionali rispetto a quello che sono i localismi perché l'Olanda o piuttosto che la Spagna non parliamo di stati prime donne questo lo fanno sul sistema dei porti l'Olanda Rotterdam insegna e noi stiamo alle calende greche grazie grazie